Ciao, benvenuti al teaser di Mio Podcasting, stagione 1, spazio audio sperimentale ad aggiornamento trimestrale. Poi ci ho preso gusto, ho comprato un metafono nuovo per registrare le altre stagioni. Ciao, benvenuti in uno spazio Mio Podcasting. Ciao, benvenuti in uno spazio Mio Podcasting. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei blog. Fate riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Valeo Contatto.